Maturità 2023, news e voti, borse di studio e agevolazioni per chi si iscriverà all'università, simulazioni test medicina, date maturità 2023, podcast, mappe, concettuali, tipologia A, analisi del testo La casa sul mare di Eugenio Montale e GT, e GT, prova svolta e LT, e LT, tipologia B, saggio breve, articolo, 1, ambito letterario L'amicizia, tema di riflessione e motivo di ispirazione poetica nella letteratura e nell'arte GT, e GT, prova svolta e LT, e LT, 2, ambito socio-economico La riscoperta della necessità del pensare e GT, e GT, prova svolta e LT, e LT, 3, ambito storico-politico La costituzione democratica per la federazione europea e GT, e GT, prova svolta e LT, e LT, 4, ambito scientifico Il principio del tempo, il tempo della natura, i tempi della storia e quelli della poesia, il tempo dell'animo, 2 punti variazioni sul mistero del tempo e GT, e GT, prova svolta e LT, e LT, tipologia C, tema storico I due volti e le ambivalenze del Novecento 2 punti da un lato esso è un secolo di grandi conquiste civili, economiche, sociali, scientifiche, tecniche, dall'altro è secolo di grandi tragedie storiche, rifletti su tale ambivalenza del ventesimo secolo, illustrandone i fatti più significativi e GT, e GT, prova svolta e LT, e LT, tipologia D, tema di attualità Il principio di legalità, il principio della legalità a valo universalmente condiviso oggetto di violazione sociale, e inquietudine nei giovani discuti le forme dei vari organismi sociali e come possano promuovere la cultura della legalità dei valori sulla solidarietà e giustizia e GT, e GT, prova svolta e LT, e LT